La tua bilancia chiede aiuto? I tuoi familiari ti implorano di rimetterti in forma? Allora partecipa al mio nuovo programma dedicato agli adulti in sovrappeso. Aiuto, stiamo ingrassando! Telefona allo 06 36 77 5543 oppure manda una mail all'indirizzo foxlifeitalia.fox.com Io e il mio team di esperti ti stiamo aspettando!